Grazie consigliere Coletti, dopo il prologo di Coletti c'è solo Di Marchino, ci sono altri, nessuno? Grazie a tutti. La loro sensibilità, mi hanno manifestato la loro sensibilità, saluto come hanno fatto tutti i nuovi assessori, il sindaco saluto i nuovi consiglieri comunali, un po' ipoclicamente come hanno fatti gli altri, lo faccio anch'io, vi auguro un buon lavoro, dico i copi da me perché è inutile che ci nascondiamo, siamo tutti coinvolti in un'amministrazione e voi avete scelto la strada più difficile, che è quella di amministrare a nome. Perché il dato politico vero che nasce da questo consiglio comunale è che ci sono degli assessori che facevano i consiglieri comunali, ci sono delle persone che tutto pensavano di poter fare, forché entrare al consiglio comunale, ci sono tante persone che avevano delle aspettative, ce ne sono tante altre che hanno perso il posto che avevano, mi riferisco agli assessori che sono usciti ormai in tanti e che certamente non hanno il sentimento che si vuole far arreggiare questa sera, io sono convinto che lavorerete, che farete tante cose, cercherete di fare tutto quello che dovete fare, però sarei veramente ipocrita se non dicessi quello che almeno va detto in un consesso come questo. Perché nulla si improvvisa, credo bene il senatore Coletti, siete qua, siamo qua perché ci siamo candidati, perché abbiamo fatto delle liste, perché siamo andati in mezzo alla gente a chiedere i voti, perché siamo venuti in consiglio comunale, perché abbiamo fatto dei programmi e perché adesso le cose sono andate come sono andate. Però stendere così un vero e un bianco su tutto quello che è successo e dire, volevo sapere perché non è successo niente, mi sembra non corretto. Ci sono delle cose che rimangono, le problematiche politiche restano tutte quante, resta il problema di fondo, e cioè che avete fatto le elezioni nel 2012, adesso io farò un appello, vorrei sapere se qualcuno mi risponde, delle forze politiche che si sono poste all'attenzione della cittadinanza, ho pagato qui la telecamera, mi può inquadrare, e faccio la spede e dico qualcuno c'è per la sinistra ortonese, alzi la mano, qualcuno c'è per l'involuzione comunista, alzi la mano, non mi sembra. Qualcuno c'è per i verdi, qualcuno alzi la mano, non lo vengo. C'è qualcuno per sinistra, ecologia, libertà, commendova, non risponde nessuno. C'è qualcuno di Di Pietro Italia dei Valori? Non risponde nessuno. C'è qualcuno per Casini? Non risponde nessuno. C'è qualcuno per... C'è un assessore. C'è un assessore. Non risponde, non c'è. E poi io parlo del Consiglio Comunale, di chi ha fatto le elezioni. C'è qualcuno per Uniti per Ortona? Non c'è nessuno. C'è qualcuno per i socialisti? Non c'è nessuno. Ma santo Dio, allora, vogliamoci bene. Siamo tutti belli, siamo tutti buoni. Ma che ci siamo? Passo di qua. Passo di qua. In effetti, dovrebbe passare a qua. Ma ci arrivo alla fine, ci arrivo. Cioè, se il senso dell'ipocrisia dominante e di questa sorta di anestesia di cui è vittima la città fosse superato per un attimo, forse si rimescolerebbe tutto. Perché, come ha detto il senatore Goletti, che adesso impare di questa amministrazione, e lo dico con piacere per lui, è il vero padre della prestazione. Ho sentito gli interventi politici, ho sentito gli interventi politici del senatore Goletti, che è il capogruppo del PD, perché l'ultimo appello che devo fare è delle nuove liste. C'è il PD, ecco, c'è il PD, mi alza la mano, mi alza la mano. C'è il segretario, c'è il segretario, ci siete tutti, siete tutti del PD. E non è un PD di sinistra, ma è il PD più di destra, se così si può dire. Perché sapete? Più di centro. Più di centro, più vicino alla destra, diciamo. Allora, le lezioni, cari amici, è vero che si fanno le liste, è vero che tutto quello che avete detto, è vero pure che siete bravi, è vero pure che dovete lavorare, è vero tutto quello che avete detto. Figuratemi, se mi dispiace, se potete, o se otterrete i risultati che altri, anche, se posso dire, più votati di voi, o più plasmati di voi, non sono riusciti ad ottenere. Ma figurate, fate qualche cosa di buono per la città. Sono contento. E gli auguri che faccio, dopo aver detto che non sono un ipocrita, sono quelli sinceri, sono quelli veri, non sono quelli politici del Duleviz e Benio. Sono il rispetto che c'è per ognuno di voi che mi porta a dire, anzi, se avete bisogno di qualcosa, abbiate pure il coraggio di alzare il terreno. Però, la città anestesizzata da questo modo di gestire la cosa pubblica che avete voluto e che avete fatto e che soprattutto avete impostato della campagna elettorale quando siete andati in giro in nove, in nove sigle politiche a chiedere di voi alle persone e avete fatto di questa coalizione strana. Non esiste più. quindi voi a questo punto siete guadagnati di risolvere a governare soltanto perché e questo direte vuotare merito, c'è un padre signorilmente padre quindi senza nessuna negatività da parte di quello che dico che vi dice esattamente quello che dovete fare e se ciò coincide con l'interesse della città e se ciò coincide con il vostro interesse va bene ma ricordate che siete in nove e la legge del nono non è una legge che fa bene alla città lo avete dimostrato in questi tre anni e ve ne sarete a porta la legge del nono è che appena adesso vi troverete ad affrontare un problema ci sarà uno che vi dice eh no e questo io non vengo in consiglio comunale e adesso non ci vengo e se non fai questo non lo faccio amici ci dobbiamo dobbiamo fare gli ipocriti degli ipocriti i super ipocriti per dire che tutto quello che è successo in questi tre anni è esattamente questo che il balletto degli assessori è avvenuto per questo immaginate non lo so prendo marce giusto perché sono come dire empaticamente più legato a lui e quindi non c'è nulla di offensivi in quello che dico ma se quello che sta dopo di te alla lista non so che e non lo voglio neanche sapere ma uno ci sarà uno, due, tre voti quattro voti ci sarà quando ti ha preso quattro voti e dice a te marcello ma tu sei il nono sì ma vuoi fare l'assessore e se tu gli dici di sì e scusa marcello certo gli dice al tuo amico io faccio l'assessore fai il nono e chiama ti scegli guarda uno di quelli ma ma spara uno di quelli e dici signore o se ne va a quello o se no io non faccio basta che tu ti metti d'accordo con il primo dei non erenti allora amici ma di questi esempi di questa assurdità di un sistema attraverso il quale vi siete messi in una condizione di governo che io ho definito e questo veramente lo dico quando fanno un deciso di fare una cosa simpatica ma stasera non l'abbiamo fatta che io definisco il governo fa a pagarlo perché il governo fa a pagarlo no perché c'è fa a pagarlo perché purtroppo chi è stato in ospedale io recentemente ci sono stato quando purtroppo non è non gli è consentito di alzarsi da letto per andare a fare delle deiezioni che voi tanto mi piacciono che avete scritto pure per strada avete parlato di deiezioni ma quando non può andare a fare delle deiezioni tu usati il pappagallo voi dovete portare un pappagallo perché se qualcuno per caso si alza e noi decidiamo di andare tutti quanti fuori il consiglio comunale non si fa quindi è un consiglio comunale pappagallo anzi bisognerebbe fare un regalo di questo tipo al consiglio bene il senso di quello che sto dicendo concludendo è che secondo me tutto ciò che è successo nel 2012 quando romuamente vi siete messi insieme per poter vincere le deiezioni che vi ha regalato il centro-destra perché sono state elezioni veramente falsate su tutti i punti di vista che a me hanno pesato particolarmente perché avete visto con quanta con quanta dedizione con quanto coraggio con quanta abnegazione ho appinistrato la prova ne è ne sono le parole del senatore perché quando dice che l'onestà è in questa in questa città vice dal 1935 forse uno che ha amministrato per vent'anni consecutivi di interrottamenti con una lista civica che aveva fatto e che ha portato qua i consiglieri comunali e gli assessori senza cambiare mai ma che sta facendo di stare sempre seguiti avendo il coraggio io non l'hai cambiato mai io insieme però 24 non l'avete cambiato 24 la fin 20 anni rispetto a quello che avete fatto voi vabbè ma non è una questione di numeri se vi piace così continuate a fare così tanto la città vi vuole bene vi dice sempre l'ho detto l'altro 8 coloni che siete delle brave persone quando mi vedi siete brave persone bravi bravi quando sei bravi siete delle brave persone i cattivi quelli che non stanno dall'altra parte stanno dall'altra parte voi siete bravi continuate a fare bravi sarà un problema vostro della vostra coscienza se rispetto all'assessore che avete fatto fuori rispetto al consigliere che arriva dopo rispetto a quelli che avete preso verso la città rispetto alle cose che ho sentito stasera e che non voglio stare a rimancare perché se qualcuno ha il coraggio veramente di fare quello che deve fare si deve alzare deve raccogliere le firme per mandare a casa l'amministrazione io l'ho detto dall'inizio e lo continuo quando ci sarà qualcuno che avrà il vero coraggio ma si fa sulla base di un progetto politico si fa sulla base di un ragionamento che come ho detto centinaia di volte sono stato sempre frainteso si poteva fare si può fare anche in questo momento perché l'amministrazione non serve a niente un'aggiunta che si regge su due persone è un'aggiunta che sta appesa al filo e l'ho dimostrato se volete fare veramente qualcosa di serio lavorate ma soprattutto cercate di guardare come il vostro padre spirituale chiamiamolo così ha fatto e che sa fare anche ad altre possibilità perché queste possibilità fanno il vero interesse della città e non ci servono gli assessori non ci serve niente ci serve la vera volontà di fare qualcosa degli interessi della città grazie per l'attenzione che mi ha detto prestato volevo leggervi prima di sedervi un ordine del giorno che ho fatto io voglio leggere quest'ordine del giorno che poi magari se volete lo faccio anche passare se volete lo condividete lo firmate allora considerate che a piazza San Dommaso viva in un degrado assoluto considerate che è alipita per la maggior parte al parcheggio e per il resto occupata da un cosiddetto monumento o arredamento urbano da diversi mesi inagibile a bordo da una specie di plastica bianca e rossa e pericolosa per tutti favuti affinché raggiungi e desideri procedono alla rivoluzione prima possibile del monumento arredamento e due provvendono ad eliminare in tutto in parte il parcheggio delle auto dalla piazza prego di mattino grazie ci sono interventi allora questo è un punto addosso che non ha votazione la comunicazione è la mia comunicazione però giuntamente una comunicazione ci sono stati interventi adesso facciamo un'ora e mezza facciamoci male perché c'era di tutto va bene così nessuno abbiamo questa capacità di stare a micro allora adesso iniziamo l'ora e mezza fatidica chi è che prende la parola in questa ora e mezza Leo Castiglio parlando di motivazioni politiche forse veramente c'è un pochettino stufato però ridurre il tutto come ha fatto il senatore Coletti quando questa sera grazie alla sovra cura che tutti conosciamo ha tirato fuori l'ennesimo corriglio dal cilindro risolvere una crisi che è una parte da tre anni e basso con una sentenza del tribunale mi sembra veramente però lui è bravissimo a spostare l'attenzione lui ha aggiunto semplicemente quello che ha detto a un pochettino che condivido che non ente che siete un'amministrazione che non rappresenta la città dire che è legittimata forse è la cosa più coperta perché se farà entrare il dodicesimo il tredicesimo non è tanto negativo perché giustamente tutti contribuiscono alle elezioni alla vincita di un sindaco ma è grave il modo come ci si è arrivati e probabilmente batterebbe un regolo perché come dice Donato Ramundo che è finito può darsi pure se arrivi al sedicesimo quindi come ha detto Remo quindi questa è la votazione che va fatta cioè sono bruciate le persone che sono state votate dalla città e in democrazia purtroppo ho detto eh forse per te chi prende più volte va ad amministrare invece voi avete rovesciato questo principio che è antidemocratico e quindi partito partito democratico insomma non è che l'avete dimostrato tanto chiudo qui la parentesi politica veniamo agli argomenti che voglio trattare al sindaco sindaco io una cosa che chiedo spero che da questa nuova da questo nuovo corso di amministrazione che cambino anche i comportamenti cioè quanto di solito quando i consiglieri facevano delle interrogazioni anche volanti diciamo così ricordo che il sindaco per me Vito Fradino rispondeva sempre invito anche a te di rispondere brevemente o delegare gli assessori perché non è che possiamo aspettare i 10 giorni i 15 giorni i 30 giorni per la risposta io chiedo notizie sul depuratore della zona industriale come ho fatto nei tutti i consigli comunali e di cui non si sa nulla lei sindaco ha la dedica alla cultura oggi tutti avete sentito come la regione sta spogliando questa città sta posso dire massacrando questa città sta svuotando questa città dopo l'ospedale adesso ha Nicola Cultura avete sentito tutti credo i finanziamenti i contributi energiti nel settore cultura a cominciare dai 800 mila euro a Lisa per poi passare al contributo ai comuni sede dei teatri dei marzi alla fondazione di Chetti all'evento che ricordano a voi di Ennio Colaiano al fedele di Lanciano al Mastro Giurato di Lanciano alla fondazione alla lente manifestazione di Pescadesi alla fondazione di Brigata Maiere dell'arte 150 mila euro al teatro di Lanciano di Chieti questa è una delibera che dice lo voglio leggere individua e finanzia le manifestazioni storiche di interesse locale questo significa che per la regione Abruzzo cioè per i vostri amici amministratori e qualcuno si vanda anche di essere rappresentante della nostra città ottona per la cultura non esiste sindaco è l'ora e ora quindi cominciamo adesso a parlare attivamente di amministrazione seriamente basta con le cuore credo che questa città meriti un trattamento diverso e credo a cominciare dal papà di famiglia papà spirituale come ha detto Di Martino cominciate a far sentire la voce perché credo che voi abbia il compito primario di far sentire in regione che ottono esiste non solo per l'ospedale che credo che Franco poi lascia a lui andare all'ospedale anche perché vorremmo sapere come stiamo morendo piano piano voi lo sapete che è morto e morire sindaco hai la sanità hai la cultura sono deleghe importanti dove credo che sia l'ora che tu ci devi andare a mettere la faccia in più a persona basta con le commissioni basta con gli incontri basta andare a Roma se insiedono in questa città e cominci a far valere in quest'anno e mezzo che è rimasto il tuo ruolo questo ti chiedo come è successo al Presidente invece voglio chiedere noi il 3 luglio Presidente Cocciola il 3 luglio questo Consiglio Comunale ha votato l'ordine del giorno e qui tratto anche l'argomento degli ordini del giorno io credo che i consigli comunali quando facciamo il nostro lavoro io lo cerco di fare nel miglior modo possibile votano presenta e degli ordini del giorno noi dobbiamo sapere che fine fanno questi ordini del giorno soprattutto quelli votati a nonamilità perché un ordine del giorno votato a nonamilità e non a maggioranza è un ordine del giorno della città di tutto il Consiglio Comunale mi riferisco uno primo all'ordine del giorno di via Ciampino di Santonato votato prima del 3 luglio un altro ordine del giorno di cui non si sa notizia dei lavori con una raccolta di firme di tanti concittadini di cui non abbiamo saputo nulla io chiedo all'assessore dei lavori pubblici al sindaco di sapere che fine fanno questi ordini del giorno perché io credo che la correttezza sia la cosa più bella se un ordine del giorno votato non si può eseguire per motivi economici per altre motivazioni almeno abbia del buon senso di dire quell'ordine del giorno non lo si può attuare almeno questo non lo dobbiamo dare una risposta ai cittadini invece noi ci facciamo portatori di stanze che vengono dalla città per poi non dare risposte e poi siamo tutti uguali non è così almeno dare una risposta secondo il 3 luglio abbiamo presentato ho presentato un ordine del giorno sul baratto amministrativo in cui questo consiglio comunale ha dato mandato alla giunta perché va fatto a chiarezza anche su questo il consiglio comunale dà l'indirizzo politico la giunta è sempre io mi sono visto recapitare come me altri consiglieri un regolamento l'hanno dato 120 giorni quindi in perfetto tempo però la giunta si è eserciata il 2 questo è stato presentato il giorno 5 a firma del nostro papà del nostro amico senatore consigliere Tommaso allora io voglio capire quell'ordine del giorno ha detto che il regolamento lo deve fare lo poteva fare ogni consigliere o ha detto che lo doveva fare la giunta io questo voglio capire il potere di un consiglio questo voglio capire questo voglio capire questo è un consiglio voglio sapere perché non è stato dato mandato il senatore di un consiglio ma io ho fatto il mercato io voglio un regolamento presentato dall'amministrazione se poi invece voi avete delegato altri benissimo ma vedere una firma sul regolamento e poi su questo regolamento ci torneremo al momento della discussione perché forse quella firma non doveva essere messa il senatore volete per l'ospedale ho detto guarderà Franco Musa invece presento per ultimo l'ordine del giorno perché credo che sia anche il momento di fare qualcosa per le strade provinciali e non possiamo più aspettare lo leggo integralmente visto che assistiamo a un continuo peggioramento delle condizioni delle strade provinciali sul nostro territorio sia dal punto di vista del mondo stradale che della vegetazione che sussiste ai lati della gareggiata dato che nonostante le continue lamentere da parte dei cittadini le segnalazioni avvenute anche attraverso questo consiglio comunale nulla è stato fatto da mente preposto lasciando le suddette strade all'incuria totale con grande pericolo per gli automobilisti che vi transitano essendo ormai quasi di tutto ridotta la visibilità a causa della finta vegetazione posto che le condizioni economiche delle province sono ormai note a tutti e che le stesse non permettono all'ente di intervenire con generità su situazioni venute ormai insostenibili e soprattutto pericolose anche alla luce di diversi incidenti causati proprio dalla scarsa visibilità delle suddette strade ritenuto di dover comunque dare una risposta ai tanti cittadini ottonesi che quotidianamente attraversano queste arterie di comunicazione di avere il dovere morale di assicurare gli automobilisti le condizioni migliore di sicurezza richieste dal codice della strada chiede al sindaco Vincenzo Dottario di attivarsi immediatamente con la provincia affinché si possa stipulare una convenzione che permetta al comune di Ottura di sopperire le carenze della stessa provincia e provenire con i propri mezzi e con il proprio personale allo sfoggio dell'erba e al ripristino del manto stradale nelle strade provinciali due al dirigente competente di predisporre con generalità gli strumenti tecnici che permettano al sindaco adottare a tutto il consiglio comunale di dare una risposta concreta ai tanti troppi cittadini che ogni giorno sono costretti a schivare vegetazione e puche sulle strade provinciali con grande rischio per dare una ricordità Presidente faccio girare se tutti vogliono filmare lo possiamo ringrazio allora vedendo alla richiesta che riguarda la richiesta che riguarda la giunta la giunta che lo scusa al sindaco allora il diritto l'iniziativa dei consiglieri comunali io non neanche soffito minaccia lo sopprimero cioè se un consigliere comunale ripresenta una proposta di regolamento il lo scusa mi si chiara perché si dice sono di sottoscritto ma lo stiamo scrivendo quindi non mai e poi mai non indierà come dal regolamento articolo 22 del regolamento del consiglio comunale che dice il potere e il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali è successo per Tommaso Ceri opposizione regolamento per il rete un cittadino è successo per Franco Musa 3-4 ordine pari e quant'altro e l'ho inviato è successo per Patrizio Manito si sa quanti regolamenti tra cui quello che discuteremo questa sera sul progetto Casimbasino e mi sembra che abbia dichiarato di essere dell'ospedizione per intenderci se la giunta fa il suo dovere fa il suo dovere se il consigliere fa il suo dovere fa anche il suo dovere non è che come c'era la tua proposta che la giunta ha convoca dopo si sottolinea vabbè ora che la predicarà benissimo ma non esiste che io sorprimo il potere di iniziativa di un consigliere come mi stai chiedendo in maniera quasi che lo scusa da anarchia allo stato avessero consigliere come stai forzando la mano mi dice a me mi arriva da Tommaso Poletti o da un altro non lo devo inviare io inviare anche sono più quelli dell'opposizione a dire il vero che lo inviare discussi e calentarizzati quindi invito ma è sempre successo forse non te ne sei accorto l'hai votato il regolamento sul referendum cito solo uno a cui particolarmente tenivo quello del referendum sul referendum cittadino di Tommaso Ceri è stato ulteriormente discusso ma l'ha mandato Tommaso Ceri che non mi sembra sia di maggioranza forse di sfuggito ora so che l'ordine del gioco sul parlato amministrativo l'hai votato e forse mi metto in uno scippato da questi iniziati ma la realtà è che se il mio consigliere comunale mi porta a un regolamento così come sempre è accaduto io non inoltre perché per legge o al per legge mi lo scusa per regolamento qualora potesse esserci da parte di terzo dello stesso consigliere comunale la volontà di portare in discussione io ho comunque garantito i dieci giorni ora spero di essere stato chiaro quindi se tu ne vuoi fare un regolamento invia tu non l'hai invia e forse questo presidente non ce l'hai per quanto riguarda invece il potere della giunta degli ordini del giorno votati all'unanimità questo consiglio come tutti consigli ha un potere di indirizzo e di controllo una volta che io ho un ordine del giorno votato il regolo di martino mi ha tempestato per croce per fare l'ordine del giorno su croce e io l'ho mandato in commissione la commissione quella non si è tenuta nel senso che è stata deserta ma io lo ho il mio potere io non posso entrare in subito e dire siccome questo è votato domani mi tappo domani mattina io lo mando in commissione lo pubblico sugli altri lo invio a Zina ma il mio potere di indirizzo e di controllo finisce qua un altro potere non ce l'ho so immagino che insomma ci sia anche una volontà e hai ragione il sindaco sa che gli ho scritto una lettera due o tre mesi fa dicendo mi dici qual è lo stato degli ordini del giorno che sono stati votati all'unità ma non è che non mi ha risposto perché giustamente mi renda difficile comprimere l'attività della giunta gli ordini del giorno io nella passata amministrazione opposizione feci un ordine del giorno votato all'unanimità decreto versare i tecchi pubblici con il fotovoltaico non mi serve di aver visto tanti tecchi con un animo con il fotovoltaico purtroppo c'è quello spero di aver chiarito ma spero di aver dato un'informazione cioè se tu mi invii un regolamento io lo noto come ho fatto tutto qui se non ti chiedi soddisfatto della risposta è verificata innanzitutto presidente chi si affamora è lei non sarebbe perché io sto semplicemente riportando quello che è successo primo seconda cosa non mi sento derrumbato di nessuna iniziativa perché io quello che dovevo fare l'ho fatto in consiglio comunale perché io lo rindirizzo terzo cosa che non hai detto io rispetto il colloquio e questo che forse un altro non fa allora io quando presento un'orce del giorno e lo si vuole all'unanimità e si dà mandato al dirigente al sindaco io aspetto come consigliere comunale la risposta di chi è il demandato ma non sono io perché io non l'ho fatto quello che è stato fatto è un po' di incona che stiamo capace tutti di farlo ma non l'ho fatto perché rispetto il mio ruolo capito presidente no io ci metto a precisare perché alcun non è che sono io che ho già detto e penso di essere stato chiaro penso di essere stato più che chiaro perché non gli ho detto se non ci sono di farlo di pazzo perché sono andato per un monumento per la democrazia che ho fatto rispettare anche con il consigliere dell'opposizione sopra e però non ho altri interventi non già chiedo scusa guardavo il marino guardavo il marino ma non ho fatto la parola il marino però il marino è un'attività di iniziativa grazie presidente ma come se ti resti a questo non la città non la città stiamo per il terzo senso del questo è giusto non gli andiamo posso? grazie allora io volevo due cose inoltre chiedere al sindaco la giunta a segnalare quanto i cittadini sono segnalati da tempo e cioè di una pratica che succede nel centro di raccolta di contegrazi di persone non bene qualificate che si presentano in questa fiscarica e prelevano ciò che viene di depositare soprattutto oggetti frigoriferi e cose cose ora sappiamo bene che questa è una pratica indegale quindi io non so se è il caso di attivarsi con anche organi di polizia affinché questa pratica venga sforcata anche per incolumidare gli operatori che sono lì nel centro di racconto questa è la prima cosa la seconda cosa volevo chiedere al sindaco di farsi portavoce in maniera forte e decisa presso il presidente della giunta regionale il presidente d'Alfonso perché ricordo che quando ad agosto siamo stati ricevuti dal presidente d'Alfonso e dall'assessore Coralucci entrambi si sono impegnati a portare l'ottore a tornare l'ottore loro con delle delibere delibere ricordiamo bene sul nostro ospedale e questo sarebbe dovuto avvenire a settembre ora siamo alla fine di ottobre e stiamo sì qualcuno dice che non ha detto di chiare però noi così a numero di naso capito che era settembre 2015 ora siccome le promesse vanno mantenute perché noi siamo gente di mare e probabilmente promesse spesso non le manteniamo ma chi è gente di terra e gente che amministra questa regione dovrebbe mantenere allora io chiedo che il sitaco chieda con forza la regione al presidente e all'assessore il nostro ospedale che fine deve fare quali sono questi progetti concreti che lui si è impegnato a venirci a impostare qui a Dottone considerando tutto ciò che si dice la chiusura del pronto soccorso la suppressione di altri repari di cui non abbiamo contezza ma appunto vogliamo che dalla bocca del presidente della regione dell'assessore ci vengano dette anche perché così ci regoliamo su che tipo di battaglia dobbiamo fare un'ultima cosa io voglio presentare un'ordine del giorno che recita così l'ho detto in considerazione della recente scomparsa di Francesco San Vitale musicologo professore universitario docente nel conservatorio storico del risorgimento ricercatore maggiore aspetto del compositore musicista ortonese Francesco Paolo Tost visto l'impegno profuso da Francesco San Vitale in tutti i settori della vita sociale culturale e civile della nostra città lo hanno portato ad essere per circa trent'anni un punto di riferimento per Ortona considerando che Francesco San Vitale fondato nel 1983 e poi diretto per 25 anni l'istituto nazionale costiano dando l'usco in Italia nel mondo alla città di Ortona attraverso la diffusione delle opere delle opere del musicista ortonese Francesco Paolo Tost e della nostra identità pretenuto per la comunità ortonese debba dare a Francesco San Vitale il giusto riconoscimento per la sua instancabile opere culturale e civile delibera di intitolare la sala della musica di Palazzo Corvo a Francesco San Vitale denominando la sala della musica Francesco San Vitale grazie grazie se i consiglieri lo vogliono firmare grazie grazie Marino Musa lì la pagina sono sottuati l'articolo tutto allora volevo ricordare e porre attenzione all'attenzione del sindaco e degli assessori che l'articolo 23 comma 5 del nostro regolamento che io vi forto sempre a fresco c'è sempre a Tommaso Corretti che ci dice un'altra cosa il padre come è stato definito questa sera io invece voglio dire che lo sanno 5 dice che quando il consigliere comunale fa una interrogazione o pone all'attenzione del consiglio comunale un argomento chi risponde è o è sindaco o assessore delegato siccome risponde sempre a Tommaso Corretti io questo non volevo fare come nella discussione è una cosa quando parlo di argomenti mi rispondo o l'assessore o il sindaco ma siccome fino adesso non c'è stata nell'assessore e nei sindaci e nei sindaci e nei sindaci giustamente Franco mettiamo l'assessore più che una risposta è un intervento con un altro consigliere comunale che è adattivato del sito buonasera ponco il primo argomento che è stato già anticipato a lui siccome ha pagato la ripresa quindi ha anticipato un attimino per fare parlo del no di questo ne parlo dopo dell'ospedale un attimo solo volevo parlare del campetto del Pasqua tanto caro a Tommaso Moretti che mi riparisce ogni volta tu pensi il campo da Pasqua siccome mi hai anticipato prima sicuramente non parlo del campo da Pasqua e io puntualmente riparisco il concetto intanto Presidente mi scusi Presidente mi scusi io il 21 di settembre in occasione del quell'ultimo consiglio comunale e cioè non l'ultimo quello oggetto di svedimenti e quant'altro in quel consiglio comunale normale io depositai un ordine del giorno che faceva riferimento appunto all'allora non costruendo campetto di Basqua successivamente qui che ad oggi in itinere della costruzione io penso che ci siano ancora termini per fare qualche cosa in merito a questa a questo no no la risposta veloce sappiamo che ce lo siamo detto se lo dice pubblicano sappiamo perché la questione è in questi termini l'ordine del giorno che meno di un mese fa è stato depositato come dici ci sono i termini e poi tuttavia ci abbiamo mandato ci abbiamo parlato che va in commissione perché ci sono dei consiglieri con un'animo che dovevano sulle superstrate per consentire loro di analizzare le carte domani mattina io invio la comunicazione perché sono sublocati adesso domani mattina io invio la pubblicazione alla commissione credo che sia la terza per la votazione la nomina del presidente e l'analisi di questo che ho l'interno del tempo grazie della presentazione lo avrei fatto per l'onore di amicizia però il problema esiste e esiste sempre più pressante adesso il richiamare continuamente la responsabilità che non investono questa amministrazione non vuol dire che questo problema non ci deve risolvere se la precedente amministrazione ha fatto delle cose che non poteva fare e che comunque ha portato a un punto morto e cioè sotto al decimiliero dal nostro caso si sta consumando una tragedia di quella che stiamo costruendo un campetto da basket per farci andare a giocare dei nostri ragazzi appello al consigliere seccia consigliere seccia lei che è stato oggetto di difesa legittima condivisa opportuna di un altro argomento che penso che prima o poi ritornerà in questo concilio comunale visto le novità che abbiamo letto sulla stampa perché adesso le novità per quanto riguarda l'anialto noi le leggiamo sulla stampa non è che facciamo ci rendete partecipi di una condizione che anni che stiamo cercando salutiamo l'assessore di Jure che vero male è arrivato noi già ci siamo proprio in quanto tutti invece non mai arrivato di Jure e quindi questo campetto da basket è inopportuno noi abbiamo fatto in accordo anche con un'associazione abbiamo fatto raccolte delle firme vi abbiamo fatto l'ordine del giorno vi abbiamo pregato di sospendere vi abbiamo pregato di guardare bene questo argomento vi abbiamo pregato di mettere mano a questa situazione che pur se è complicata caro sindaco io non è che conosco tutto di questo argomento però la maggior parte delle condizioni le conosco e quindi sono cosciente del fatto che la risoluzione di questo problema non è una risoluzione facile ma un'amministrazione attenta e che guarda al domani e guarda oltre il proprio naso non può fermarsi davanti a nulla per fare il bene della collettività io scherzando anche della collettività e mi sembra anche opportuno questo termine io sindaco ripetisco questo è un problema che noi possiamo ancora affrontare nonostante gli atti che avete fatto ufficialmente per stoganare la Tammarete d'Energie da questo problema perché voi il problema del campetto di Pasqua non lo avete stoganato lo avete stoganato ufficialmente facendo una missiva dove si dice la Tammarete d'Energie di ottemperare comunque di non tenere più presente la famosa lettera dell'allora asset del defunto politicamente Luca Menna che disse cara Tammarete d'Energie aspetta aspetta minimo un mese per vedere che cosa dobbiamo fare se possiamo riportare la convenzione in consiglio comunale poi alla scadenza del mese gli hanno detto ok il mese è scaduto adesso ottembre fai quello che devi fare io penso che questo sia nel leader legittimo sia pararsi le spalle per non dire altro sia non prendersi le responsabilità nei confronti della cittadinanza questa è una cosa che penso io io penso che non si può non fare un ultimo e unesimo risolutore tentativo di non far costruire il campetto da basket sotto alle cimiliere non vi nascondo che ho investito anche la redazione di Spisa la Notizia perché io voglio portare all'attenzione di tutta la nazione il problema che stiamo non affrontando anzi capo il soggetto che non state affrontando conscio che è difficile io penso che non sia impossibile non è una mission impossibile quindi io la prego non è una mission impossibile caro sindaco quindi io la prego di rimettere parte a questo argomento e mi aspetto almeno questa sera la prego almeno questa sera di darmi un cenno come si dice nelle lettere un cenno che hai ricevuto la missiva e che almeno ci pensi e che te ne fai carico a livello della collettività primo argomento secondo argomento che introduce anche le commissioni il presidente della terza commissione che è patricio della commissione della commissione del pronto soccorso chi è il presidente? tu allora io il 3 di ottobre quindi stiamo parlando di hai detto che la commissione è pronto soccorso ma per me la sanità è andata pronto soccorso che non era vero il 3 di ottobre 2015 io le ho mandato una lettera a mia firma dove le dicevo che volevo auspicavo la convocazione della commissione tant'è vero che non sapevo neanche io chi apparteneva a questo tant'è vero che ho detto della commissione competente non sapendo neanche a chi mandarlo della confusione generale questa lettera le è arrivata come le dice giustamente sappiamo che tu le avevo anticipate anche prima dove richiedevo la convocazione della commissione per poter sentire all'interno della commissione quindi in una sorta di tavola rotonda così come è stato fatto al consigliere Ceni per il dragaggio le persone che concorrono alla distruzione del nostro ospedale o alla paventata distruzione quindi auspicavo la presenza dell'assessore dei vernici della AS che venissero a dirci che intenzioni hanno in aderenza a quello che ha già detto il consigliere Patricio che venissero a dirci cosa vogliono fare in questo ospedale ma il secondo punto che per me dipende il primo il pronto soccorso il pronto soccorso caro presidente il sindaco lei che è medico e ce lo dice a noi che cosa vuol dire un pronto soccorso attivo 12 ore o attivo 24 ore in un territorio lo diciamo sempre le stesse cose 100 mila persone che insistono la potrà e quant'altro io sento dire ecco perché richiedo la presenza di chi ci può venire a dir la verità che il nostro pronto soccorso diventerà breve un H12 che in termini tecnici vuol dire che avranno fino alle 8 e più alla sera 8 questo magari addirittura qualcuno dice ma io sindaco presidente del consiglio assessori per quanto riguarda il punto nascita non ho diciamo fatto grandi interventi dal punto di vista anche della partecipazione sicuro ovviamente convinto che questo è un danno per la collettività ma io ho un altro slogan non è che voglio nascere autore io non voglio morire autore di sanità quindi il pronto soccorso è un argomento che è di primaria importanza e mi vedrà partecipare a qualsiasi argomento anche come capofila di condizioni anche estreme non è possibile che il territorio che rappresenta 100.000 persone e che ha un porto noi ci stiamo scortando del porto il porto che è di resto di importanza nazionale con gli investimenti che sul porto si stanno facendo con questa congiuntura incredibilmente positiva fra piave regolatore portuale escavazione portuale investimento unica unica nel suo genere non ci capiterà mai più e noi e noi e loro ci tolgono il pronto soccorso e come io lo diremo noi a coloro che vengono operare sul porto che se succede qualcosa ed è un argomento in porto di grandissima percentuale troppo ovviamente di possibili incidizioni ma questo è solo uno degli aspetti come possiamo permettere che ci tolgono il pronto soccorso che non venissero a dire le ambulanze sono le ambulanze poi viene da Chieti argomento dell'argomento noi abbiamo toponomastica noi rischiamo di morire di toponomastica in questa città in questa città noi moriamo in questo momento di toponomastica cioè le ambulanze che vengono da Chieti non hanno le strade autore le ambulanze che vengono da Chieti non hanno i numeri civici al campino le ambulanze che vengono da Chieti non hanno i numeri civici al fuoco noi non possiamo permetterlo più questo quindi vedi come abbiamo già l'informe fa parte sempre solo con la tenata di loro io non lo so io credo ti chiedo scusa ma solo per dire ragione mi sono costituito che faccia il percorso in segnale i consiglieri di destinare le commissioni e via dicendo però è ipotizzabile che la commissione lavori per almeno tre o quattro sedute abbiamo sotto il calendario perché nell'invito di inclusa di commissioni come abbiamo fatto un'altra volta l'invio ai dirigenti è un po' più lungo come il tempo però credo che ipoteticamente si può credo che in 10 15 giorni il ciclo possa chiudersi perché se non vengono si assumono la responsabilità di non partecipare alla commissione insomma allora qui vi stavo dicendo io la prego di dar seguito a quest'ordine del giorno nel più breve tempo possibile perché non vorrei che poi ci sovrastano come te su delle azioni che fanno e poi vengono qua a dire ma molto popacchione come ci hanno detto per tanti altri argomenti ecco io vorrei in questo momento con l'aiuto del sindaco che io penso che ci sarà senza sé senza ma questa volta incatenarsi davanti al gruppo sottorso ci andiamo veramente e quindi questo è il secondo argomento li faccio tutti Presidente questo è un'interrogazione per l'interrogazione poi che si faccia con il terreno però per me che non ce che non ce interrogazione urgente sulla sinolita professore e devo fare un'interrogazione urgente alle c'è questo questa amministrazione fa delle cose che se io le racconto ai miei voti fra 20 anni loro si metteranno a livello e diranno che è possibile questa amministrazione in data 31 di luglio dopo che abbia fatto il famoso regolamento del tariffo dei servizi a domanda a domanda individuale fa un'altra delibera dove dice signori purtroppo non abbiamo soldi lei non c'era in questo consiglio comunale quando si è consumata la tragedia del IRPEF ci fosse stata l'edio sicuramente abbiamo ammeato quella sera per dire ma ci pagiamo un po' ciascuno come dice l'assessore alla povertà e non facciamo pagare tutto a pochi non è successo dopo il 31 di luglio noi abbiamo fatto lo loro hanno fatto dove dettato da condizioni economiche secondo me non oggettive ma soggettive fanno una delibera dove dicono che le rette dell'asilo vanno da aumentando a fin misura queste rette a dire la verità nella stessa delibera aumentano anche il contenso in cui si trattava per il teatro quando non c'è la sponsorizzazione il patrocinio del comune di Ortoni che ha pochi è interessato nessuno se ne è accorto quindi i tecnici dicono guardate non si può fare altro bisogna assolutamente avvolare le rette altrimenti andiamo in sempre di sempre no andiamo in non abbiamo l'equilibrio del bilancio non abbiamo le entrate con le uscite quindi signori miei con una serie di interventi da fare ma addirittura si fa vedere la chiusura di l'asilo servizio di prima necessità come lei sicuramente garantisce dall'alto della sua competenza e io lo dico su servono perché a volte io lo dico su servono quindi dicono signori dobbiamo trovare l'asilo nido poi si rappedono parlano tra i tecnici e con la politica ovviamente perché io non posso credere che il dirigente che dice se non facciamo questo aumento di talifre andiamo in non in equilibrio di bilancio dopo l'intervento dei consiglieri comunali del PD e suo risultore voi siete stati coloro che avete fatto abbassare la rette della sigla non so se lo sapete perché probabilmente lo sapete anche voi non lo sapete anche che siete stati voi a far abbassare le rette e il determinante impegno della dottoressa che giustamente ha fatto delle carte quindi su questo non ho nulla da dire riduciamo le talifre questa volta trovando i soldi per coprire questo servizio ma avevate un conflitto con i vostri cervelli prima o ce lo avete avuto dopo cioè a me vi sorge il dubbio che aumentare le rette dell'asilo era più una manovra politica che non una manovra tecnica non è che mi sorge il dubbio ne ho la certezza altrimenti non si capisce come mai dopo proviamo 70 mila e proviamo anche su questo vorrei un attimo porre l'attenzione sul dirigente degli anziati noi auspichiamo che i ragazzi non ci iscrivano perché se si iscrivono i ragazzi non ci passano i soldi perché la caratura economica di compensazione è stragrabbata su 22 anni quindi addirittura questo movimento economico è fatto nella speranza che non ci iscrivano i bambini non che si iscrivano che non ci iscrivano perché se no non sappiamo come equilibrare questo famoso bilancio famoso bilancio che oramai è diventata la panzelletta nazionale ma assessore io le faccio una domanda se poi ritiene opportuno mi risponde altrimenti no ma per il mese di settembre cosa succede? cioè per il mese di settembre cioè per il mese che è precedente a quello diciamo di ottobre novembre diciamo l'oggetto della famosa compensazione cosa succede? c'è chi è che proprio capì il 28 di settembre che cosa fa? pagare io faccio un esempio che a me sulla prima pagare 250 euro oppure vi sgravate oppure fate una quota giornaliera per vedere cosa da pagare ma voi ad oggi al 14 di ottobre ancora non date indicazioni alle famiglie che stanno che stanno nella sede assessore quando parlo parlo con commissione di casa fino a prova contraria lei adesso mi dirà mi darà la prova contraria anche perché che è successo? no si sente una vibrazione costrata una vibrazione ah ne è ne bucce perché noi non lo sanno non lo sanno allora io le faccio la domanda avete previsto nel mese di settembre un qualche cosa che vada a favore delle famiglie oppure così come mi è sembrato di capire all'interno di queste stanze che chi ha frebentato anche per due giorni paga la retta intera a questo proposito vi dico che il comune di Ottona quest'anno per la prima volta avendo fatto il banto e quindi pagando i bambini altri bambini non ci sono altre persone altri bambini gli date la cifra di 500 famosi 501 euro per ogni bambino che frequenta però ai bambini che non frequentano più di 10 giorni voi fate la riusione del 50% alla ditta cioè alla ditta poi al bambino che frequenta meno di 10 giorni gli fate 3 su 10 quadri prova lei il fatto che la ditta vi ha fatto già una prefaturazione dove dice per 8 bambini 500 euro e per 6 250 euro questa è la prefatura che la ditta vi ha fatto che mi ha ovviamente io ho la frequenza di tutti i bambini cioè i bambini che frequenta più di 10 giorni sono 8 il resto sono tutti quelli interiori come intendete risolvere questa questione vi assicuro che le persone che hanno portato i bambini in là che sono nelle fasce basse hanno problemi a far mangiare i bambini quindi mi auguro caro assessore caro sindaco caro testa del consiglio cari tutti se veniate incontro a queste persone affinché si alleghino le loro difficoltà adesso io inserisco anche le recusi perché lui è l'assessore e mi auguro che interveniate prima cosa seconda cosa che viate pubblicità cioè le famiglie non sanno ancora che cosa fare quando avete fatto il basso per la sinurisio avete ricostruito dei dei costi avete ricostruito dei costi per fare armando e per dire quanto dovevano quando offrivate per poter fare questo servizio e quant'altro nelle spese mettete 1000 euro per quanto riguarda le spese telefoniche io all'armato di questa cosa sono da vedere come mai io agli stori quando prendo 39 euro al mese il asilo mi hanno dettagli al mese al domando al mese io fanno 39 euro al mese e la sinurisio mille euro all'anno mille euro all'anno per vedere al bando poi invece una domanda precisa che si fa per i tini del bando perché chi partecipa chiede delle delucitazioni spese del telefono 374 euro questo è un esempio per dire che l'attenzione che mettete anche nei bandi è veramente scarsa quindi sull'asilo nido sulle tariffe e quant'altro io mi auguro che qualcuno mi risponda e mi dica se l'aspetto tecnico ha prevaricato per lo politico il contrario per quanto riguarda le tariffe che prima non si potevano fare e poi si sono fatte vado all'istituto costiano lei sindaco in data sindaco in data mi scuse 15 12 scusate in data 13 ottobre fa un avviso pubblico per integrare una persona all'interno del concito dell'inistitazione di scuola per ottenerare ovviamente alle esigenze di legge ci mancare il piano e ha fatto bene a farlo il 13 di ottobre sarebbe ieri quindi io avendo letto questa e questo avviso pubblico mi sono un po' diciamo calmato nei confronti dell'argomento di Sino Tostiaco l'argomento di Sino Tostiaco ovviamente è un argomento di una importanza per questa città vitale perché l'istituto stiano che per anni ha visto Tosti al di fuori delle proprie mura con il compianto maestro San Vitale che non ci stancheremo mai per rinclasiare per quello che ha fatto adesso l'istituto stiano deve capitalizzare l'economia che può generare ma se l'istituto stiano viene lasciato all'abbandono viene lasciato con il suo abbrinio e viene lasciato solamente per quello che ha fatto ma non nella previsione di quello che può fare sinceramente a me preoccupa però ricordo a quanti mi stanno ascoltando che il 2 dicembre 2016 è il centenario della morte di Francesco Paolo io sono molto preoccupato non ma faccio delle analogie con il settandesimo anniversario della battaglia che noi per tanti mesi abbiamo caldeggiato il Presidente del Consiglio è stato uno dei fautori di quella famosa di quel famoso comitato che poi è sfociato nel nulla noi non possiamo perdere l'opportunità di promulcare di fare di organizzare il centenario della morte di Francesco Paolo facendolo una economia reale non fittizia una economia reale che tenda a trottare l'argentur autonoma abbiamo iniziato questo percorso so che alcuni consiglieri comunali non sono d'accordo però io secondo me sono d'accordo non rinuncio abbiamo iniziato questo percorso come ideale quanti sanno quanti sanno che cos'è l'ideale per la manifestazione che abbiamo fatto con l'ex com i famosi 15 mila euro hanno da ricordare qualcuno e che voleva essere l'unione fra la cultura di Michetti Tosti e Dalluzio quello è stato l'inizio secondo me di un percorso che questa città non può non fare e il distrito tostiano che rappresenta proprio la sintesi di quello che deve essere il progetto del prossimo anno non può non essere aiutato però anche a tutta non può non essere considerato nel rispetto del prossimo bilancio nel rispetto di quella che la proporzione che questa città deve fare nel prossimo anno io ho dato un'occhiata a quelle che sono le cifre messe nel prossimo anno e per il 2017 su tante cose sempre su questi argomenti che avete fatto quando il bilancio era non in equilibrio ci avete tagliato tutto a tutti tutto a tutti io non credo che questo possa essere una razione che può valere per alcune condizioni in alcune situazioni che questa città mi ha presso a leggere una ragione è veloce premesso che la città di Ottore grazie alla musica del suo giusto di cittadino Francesco Paracosti è conosciuta la nazionale internazionale considerate considerato la critica internazionale come il maggiore uso di musica popata canna italiana è l'ottocento visto che il comune di Ottore ha istituito sindaco al 82 sui procedimenti sui procedimenti di conservare e tramandare la storia il consulato Francesco Paracosti e non posto che non si hanno ancora certezze posto che non si hanno ancora certezze sui impegni economici futuri che l'amministrazione possa prendere con i soggetti istituti nella considerazione che l'amministrazione di Ottore intenderà cercare degnamente io lo metto sempre l'ordine del giorno c'è come fatto questa ricorrenza anche al fine dà un vantaggio in termini di maggiore accorrenza tuisca al sindaco raggiunto al sindaco raggiunto di predisporre dalla importanza storica e culturale della necessaria tutti gli attivamenti necessari per l'organizzazione di ricorrenza anche e soprattutto in termini di modici notizie due notizie sui impegni finanziari in futuro che l'amministrazione tendrà a prendere il vostro strano affinché vi farvi garantire la complicata e l'altra proporzione del mondo della musica e del rischio di scaccio